Allora, innanzitutto buongiorno, grazie mille per essere qua con noi. Volevo chiedere appunto il ruolo del biologo all'interno comunque del settore della sanità, come può essere valorizzato e maggiorato rispetto diciamo magari ai livelli attuali? Volevo ringraziare per l'invito a questo momento di confronto. Io sono lavorato in scienze biologiche e da 12 anni svolgo il ruolo di direttore generale da sei mesi del Policlinico di Milano, quindi possibilità di crescita dei biologi all'interno delle strutture sanitarie non solo pubbliche ma anche quelle private sono non solo quelle del laboratorio in senso stretto dove già i biologi svolgono un ruolo eccellente e svolgono anche negli ultimi anni sempre di più un ruolo di direzione dei laboratori ospedalieri ma anche all'interno dell'organizzazione della catena di comando delle strutture ospedalieri. Io ne sono una prova provata che noi siamo dirigenti della sanità e quindi possiamo comunque aspirare a dei ruoli importanti. Al Policlinico si fa molta ricerca, sono centinaia di biologi che sono impegnati nei vari laboratori di ricerca ma bisogna anche immaginare quello che la Regione Lombardia sta investendo, quello che lo Stato sta investendo nella ricerca nella nostra regione anche per capire e immaginare quali potrebbero essere davvero i ruoli importanti dei biologi all'interno, quindi non solo delle strutture che erogano sanità per i pazienti ma anche nelle strutture di ricerca dove è un campo quasi esclusivamente da pannaggio dei biologi.